Prende il via una nuova modalità di prenotazione delle vaccinazioni contro il Covid-19 sul portale web della Regione Toscana. La programmazione degli appuntamenti diventa mensile e il portale rimarrà quindi sempre aperto, con possibilità di prendere appuntamento in questa fase nel periodo compreso fra il 3 maggio e il 7 giugno. La programmazione mensile al momento è riservata alle persone over 70, ovvero nate, fra il 1941 e il 1951 che non hanno ancora compiuto 80 anni. In Toscana vivono circa 410.000 ultrasettantenni e di questi 223.158 hanno già ricevuto la prima dose di siero anti-Covid in quanto appartenenti alle categorie considerate prioritarie. La Regione Toscana, il 29 aprile, è riuscita a somministrare in un solo giorno 37.000 dosi di vaccino, andando oltre la soglia delle 30.000 somministrazioni richieste dal Commissario per l'Emergenza Figliuolo, un risultato che, come ha sottolineato il Presidente della Regione Eugenio Gianni, è stato reso possibile grazie all'impegno straordinario dei medici di famiglia, delle donne e degli uomini dell'intero servizio sanitario regionale, della protezione civile e della rete del volontariato.